Manca meno di un mese ma le prevendite sono già attivissime per il mega concerto che ci sarà il 20 marzo nell'auditorium della Gran Guardia dove grandi artisti si ritroveranno per un fine comune, quello di dare un supporto consistente ad arti che è l'associazione Rene Trapiantati Italiani. Sono amici di Telerena, li conosciamo benissimo così come è una presenza conosciuta anche quella di Ennio Ottofaro, l'abbiamo conosciuto nel contesto dei Kings perché lui è stata una delle memorie storiche che si è raccontata dai nostri microfoni ma oggi lui è qui in veste speciale perché sarà il direttore artistico, giusto definirti così Ennio? Più vesti, c'è la veste di musicista in quanto suono con gli altri amici musicisti, la veste di presidente di Verona & Sound che è l'associazione che promuove questa manifestazione sotto aspetto organizzativo e purtroppo anche quella di specie di direttore artistico in quanto devo seguire tutto quello che succede. Faserem & Friends, chi sono i Faserem? I Faserem sono un gruppo di appassionati della musica di Daya Streitz che nell'anno lontano 1990 hanno pensato proviamo a fare questa musica, non si sa mai che ci riusciamo e ci abbiamo provato e ci è piaciuta e abbiamo continuato con alti e bassi così perché chiaramente siamo tutti, non siamo grandi professionisti veri in questa circostanza, siamo tutta gente che lo fa per hobby quindi ci sono a volte impegni di lavoro, impegni di famiglia, cosa del genere, però siamo resistiti tutti questi anni, allora abbiamo pensato facciamo una bella festa per questi 25 anni di attività però la festa è bella se ci sono anche degli amici e allora abbiamo pensato ci sono degli amici a Verona con cui abbiamo relazione, non faccio i nomi adesso perché dopo li farai te. Ah no possiamo già svelare qualcosa, allora quindi in scaletta i Faserem apriranno la serata? I Faserem di fatto apriranno la serata e faranno le canzoni più belle dei Daya Streitz. Ecco io qua voglio arrivare, voglio un'anticipazione su quali pezzi non mancheranno. Beh ci sarà Romeo and Juliet, ci sarà Tunnel of Love, ci sarà Salt and Swing che è il pezzo, devo guardarla, devo guardarla. No no puoi guardare pure me. Ah posso guardarti? Sì puoi guardarmi. Ci sarà Walk on Life che sono dei pezzi canti che sono diciamo. Ecco quindi la possiamo consigliare non solo per lo scopo benefico ma anche a chi non conoscesse benissimo i Daya Streitz. Forse è il motivo per avvicinarsi no? Sì senz'altro, senz'altro, senz'altro. Poi ci sarà la cosettina che secondo me è carina quella di dire mentre noi suoniamo un brano di Daya Streitz un ospite si inserisce con noi e continua a suonare insieme a noi. Dopodiché finito questo brano noi suoneremo insieme all'ospite un brano del repertorio dell'ospite. Quindi è lì forse la novità in un certo senso. È davvero interessante questa nuova versione. Senti ma tu farai Mark Knopfler? Io farò Mark Knopfler. Ah sei tu? Sì. Chitarra e voce quindi? Già comincio a tremare perché sono abituato però sai in questo contesto qui dove ci sono fra l'altro dei calibri di musicisti tipo Luco Livieri, tipo I Sonora, tipo Gigi Cerpelloni degli Alighetonei sono tutti chitarristi veramente di gran calibro a Verona che io stimo moltissimo e di grande espessore per cui suonare vicino a loro nonostante si è abituato a suonare la musica dei Daya Streitz un pochino mi mette in apprensione però bisogna sempre sfidare. Che ce la farete? Senti Diego e Luca dei Sonora invece come collaboreranno? Loro collaboreranno sì ovviamente. Loro hanno aderito subito. Anzi voglio approfittare dell'occasione per ringraziare nuovamente gli artisti che si sono prestati gratuitamente proprio per questo fine benefico nei confronti di arti. e loro avranno il loro spazio dove probabilmente presenteranno anche il loro prossimo, ultimo lavoro e dopodiché ci sarà un gran finalone tutti insieme, tutti insieme sul palco scenico per Salt and the Swing dove ci alterneranno tutti i chitarristi in questa esibizione. Rischiati di essere tanti sul palco? Siamo tanti, saremo tanti. Poi ci sono anche le due chicchette ovvero vogliamo fare l'esperimento in due brani dei Daya Streitz ci sarà un quartetto d'archi che ci introduce e che poi ci accompagna. quindi mischiamo il pop rock con la musica classica che non è male, a me è sempre piaciuto nonché delle ragazze che faranno anche delle coreografie in 3-4 brani per cui è molto articolato lo spettacolo, secondo me dovrebbe essere gradevole. Avviso subito che sarà lungo, sarà lungo perché tutta questa gente qua non potrà essere un qualcosina che dura le classiche ore e mezza e così, può essere che vada oltre 2-2 ore e mezza io spero che la gente riesca a rimanere sveglia, bene interessata, senza fuggire prima della fine. Quindi fatevi la pennichella pomeridiana della domenica, ricaricate le energie. Preparatevi a 5-6 ore, quindi dopo 2 ore e mezza saranno un giochetto. Ah come 5-6 ore di concerto? Sì, se sei addestrato a 5-6 ore. A che ora si parte però? Si parte alle 9, però alle 9 ci saranno tutti, a parte i convenevoli perché dobbiamo ringraziare il comune che ci ha dato lo spazio, dobbiamo ringraziare arti e sensibilizzare sulla donazione di organi fra viventi e dopodiché partiremo con la musica, ma si sa che ci sono certe meccaniche che portano via del tempo, siccome tutti vogliono suonare, perché chi suona piace suonare, giustamente. E c'è tanta musica, quindi... Ah senti, andiamo a citarli tutti così non ci dimentichiamo. Quindi apriranno i Faserem, poi ci saranno Diego e Luca dei Sonora, Luca e Oliveri... Che saranno in ultima, se vogliamo una scaletta... Eh facciamo una scaletta. Faserem, dopodiché si introducono Luigi Cerpelloni e Stefania Ghizzoni che sono componenti di un gruppo molto quotato, ovvero un alligator nail, dopodiché ci sarà questo quartetto d'archi che si introduce, eccetera, che introduce dei nostri brani, dopodiché ci saranno le hillbilly soul, che sono tre ragazze, tra virgolette, che fanno musica country, che cantano e che ci assisteranno in alcuni brani cantando, ma poi faranno anche un brano loro, country, quindi io mi auguro che tutta la platea si metta a ballare il country insieme a loro, dopodiché ci sarà ancora qualche brano di Dalia Strezzi, eccetera, eccetera, dopodiché ci sarà Luca Olivieri, finito Luca Olivieri, ci saranno altre cose, e poi in sonora presenteranno forse in acustico, diciamo, quello che è 10 minuti e un quarto d'ora del loro repertorio attuale, e poi il finalone, questo finalone. Che non si sa quando arriverà, cioè sappiamo la data, il orario di partenza, si partono alle 9, ma non si sa quando si finirà. E non si saprà neanche quanto durerà questo finalone, il brano finale, perché siccome tutti si intervallano, magari uno fa un giro armonico e dice ma perché non ne faccio un altro, perché non ne faccio un altro ancora, e perché non fare un bis. E perché non fare un bis. Senti, quante prove state facendo per ottimizzare un concerto, perché un conto è fare artisti singoli con il proprio repertorio. Esatto. Questa è una versione nuova. Questa è una versione nuova, infatti dovremmo avere anche dei momenti in cui proviamo i brani con gli altri, perché oltre a prepararci noi, dobbiamo prepararci anche insieme agli altri e trovare appunto, vabbè, insomma. Siete come mai proprio arti? Perché noi come associazione Verona & Sound, è da anni che collaboriamo con arti, poi un personaggio di Verona & Sound collabora con me nella associazione Verona & Sound ed è anche a sua volta, non mi ricordo se è vicepresidente o presidente, di arti. Quindi ha le due vesti, una come componente del Verona & Sound, una componente di arti, ci siamo sempre trovati bene con loro, abbiamo un certo feeling, ogni tanto ci troviamo anche a Cina, cosa del genere. Poi ricordiamo che fanno un compleanno importante a arti quest'anno. Sì, festeggiano i 2.000 trapianti, li hanno già festeggiati formalmente, ufficialmente, ma comunque sono 2.000 trapianti di reni che hanno situato a Verona. Travivente, il trapianto travvivente, questa è sicuramente una modalità che ormai è diventata a protocollo e Verona ne è capofila in tutta Italia, quindi vogliamo che la cittadinanza sappia anche questa, oltre che venire per uno spettacolo sicuramente di grande calibro. Le pre-vendite sono aperte, giusto Elio? Come facciamo a prendere i biglietti? Box office in via Pallone, quindi è possibile sia andando fisicamente a box office, sia anche sul web, perché aprendo il sito di box office, comunque è sufficiente venire su Facebook, ci sono le nostre pagine su Facebook, dove ci sono locandine. Faserem, 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 tributo da Estates, e lì c'è l'evento e cliccando sull'evento si arriva al link che porta direttamente al box office, quindi è possibile anche prenotare il biglietto tramite web. 10 euro? 10 euro. 10 euro. Più diritti di pre-vendita si vede naturalmente di box office, che sarà 1,50 euro, penso. Ecco, però ricordiamo che tutto l'incasso andrà devoluto per Arti, quindi io ringrazio Ennio per essere stato con noi oggi, come anticipazione di una puntata del 18 marzo, quindi il venerdì prima noi avremo qui una parte del cast, perché per averli tutti servirebbero anche noi 3-4 ore di diretta, credo, invece dobbiamo riuscire a ottimizzare tempi e spazi, ma lo faremo volentieri sicuramente per la buona causa, ma anche per ritrovare dei volti noti che già sono transitati da questo saluttino. Grazie Ennio per essere stato con noi, un saluto a tutta l'organizzazione, a tutti i volontari di Arti, un saluto a tutti voi che ci seguite sempre numerosi da casa, sei a casa, torna lunedì mattina alle 10 e 15 minuti, un buon weekend a tutti. Va bene, ciao a tutti. Arrivederci da Banca Popolare di Verona